Una valutazione di incidenza ambientale insufficiente rilasciata sulla base delle sole voci di mitigazione ed un impatto pesante del traffico veicolare. Sono alcune delle criticità rilevate dalle associazioni ambientaliste WWF e Lega Ambiente che hanno presentato e vinto il ricorso davanti al TAR nei confronti del progetto della ESCAL volto ad installare un impianto di produzione di leganti idraulici cementizi sulla fascia esterna della riserva naturale di Punta Derci a Vasto. Il Tribunale infatti ha accolto il ricorso concedendo l'annullamento del parere favorevole dell'ufficio tecnico del Comune di Vasto per la realizzazione del cementificio. Avvocato, nel merito quali sono i punti salienti di questa sentenza del TAR che ha visto riconosciute le vostre ragioni? Il motivo fondante di accoglimento del ricorso è stata la mancanza del parere dell'ente di gestione. Da ultimo, ma non meno importante, il TAR ha anche espresso una regola che, ripeto, potrà essere utilizzata anche in altre situazioni su tutto il territorio nazionale che riguardano le varie oasi e le varie riserve e che comunque anche al di fuori delle aree protette ci deve essere l'autorizzazione da parte dell'ente. Con questa sentenza andiamo a tutelare proprio questo, quello che ha l'Abruzzo come punto di ripartenza e come futura programmazione e anche per uno sviluppo economico di questi territori. La sentenza poi ci dà anche un'altra grande forza che è quello di dire che i pareri degli enti gestori delle aree protette non sono solo una carta tra le tante da mettere all'interno dei progetti ma sono di sostanziale importanza proprio per definire le attività che possono essere fatte o meno sul territorio. Di Marco, dopo questa sentenza ovviamente si guarda avanti. L'obiettivo è quello di avere sempre un occhio vigile per quanto riguarda le riserve della nostra regione. Sicuramente dal punto di vista della conservazione questa sentenza fa tanto perché sancisce quel principio fondamentale secondo il quale non basta trovarsi fuori da questo circuito ma bisogna guardare quelle realtà anche produttive che non impattino con la conservazione dei nostri habitat e con il valore importante che loro hanno anche da un punto di vista di promozione e di crescita socioculturale del territorio ma significa anche che i nostri imprenditori devono fare un salto di qualità devono sostanzialmente iniziare a ragionare su un'industria green su quello che anche questa pandemia ci ha insegnato. Grazie a tutti.